Che febbraio emozionante! Supereroi, horror, fantascienza e divertimento per tutta la famiglia. Con Rakuten TV vivrai un mese intenso. Non vorrai perderti nemmeno un film. Sì! Chiudi gli occhi e cerca di ricordare il tuo peggior incubo. Te lo ricordi? Bene, quel ricordo non è nulla, paragonato a questo film. It, il terrificante pagliaccio inventato da Stephen King. Torna in un remake che non ti lascerà dormire. Il più grande fenomeno horror della storia del cinema. Corri e nasconditi dove puoi, prima o poi. Anche tu galleggerai. Anche tu! Anche tu! Anche tu! Anche tu! Alla Marvel piace viziarti. Razioni extra di tutto a questo giro. Extra di attori come Chris Hemsworth, Tom Hiddleston e Kit Blanchett. Extra di azione compresa l'apparizione di Hulk. Senza dimenticare la razione extra di Risate. Dove siamo? Non puoi immaginare. Divertiti con uno dei più grandi blockbuster dell'anno. Prendi un po' di Ricomincio da Capo. Qualcuno mi ucciderà stanotte. Mixalo con Scream. Il risultato? Un divertente thriller horror interpretato dalla fantastica Jessica Ruth. Fai passaparola. Tanti auguri! Questo è un film perfetto per passare una serata terribilmente divertente con i tuoi amici. Stai per vedere qualcosa cui molti non credevano. Un sequel di Blade Runner all'altezza del suo predecessore. Interpretato da Ryan Gosling. Harrison Ford che ritorna al suo ruolo di Decker. Che cosa vuoi? Voglio farti delle domande. Con un'estetica e profondità che l'hanno reso subito un classico del cinema moderno. Te l'ho sempre detto. Sei speciale. Questo film ti assorbirà come lacrime nella pioggia. Tina vuole avere figli ma non riesce a rimanere incinta. Una femmina senza figli è una femmina a un'età. Così sua sorella Lidia decide di aiutarla portando a termine una gravidanza per lei. Nei prossimi mesi la prima dovrà fingere di aspettare un bambino mentre l'altra dovrà nasconderlo. Aspetta un bambino. Ma non è un bambino, ma non è un bambino. Il pasticcio è servito. Non perderti questa commedia con Claudia Gerini, Stefano Fresi, Giorgio Pasotti e Lillo. Un viaggio verso la femminilità che verrà. Il tuo cinema a casa. Goditi le ultime novità. Ora sulla tua Smart TV.